Banchieri e imprenditori. Inizialmente Sarti, giunti da Lione a Roma alla metà del Settecento a seguito di un abate francese, i Turlognais, poi investono nella mercatura di stoffe, entrano al servizio dei papi e quindi aprono un banco, diventano banchieri dei pontefici, riescono soprattutto nel periodo burrascoso del passaggio dei francesi ad essere sia banchieri dei papi di Pio stesso, sia banchieri di Napoleone, e poi nuovamente dei pontefici, insomma a non perdere come dire la stima e la fiducia degli uomini di potere nonostante i cambiamenti di governo. Nel corso dell'Ottocento diventano sempre più imprenditori, ci affiancano all'attività del banco, quella appunto dell'improdottoria e sono soprattutto protagonisti di grandissime opere di bonifica nelle loro proprietà private, tutta la zona di Fiumicino per intenderci, e poi famosissimo appunto il prosciugamento del lago del Fucino. Non do giudizi personali sulle opere di questa famiglia che utilizzavano tra l'altro il sistema del credito per entrare in possesso di collezioni di marmi, a dire il vero, in genere costituitesi precedentemente ad opera di famiglie di più antica nobiltà, famiglie romane di più antica nobiltà, spesso proprio a causa dell'insolvenza di debiti, i nobili famiglie perdono le proprie collezioni che appunto vengono acquisite dai Torlonia. Perché ho scritto in copertina Grecia Capta per un Victorium Cepit e Tartesi in Tulita Gresti Lazio? Perché in ogni caso, al di là del discorso collezionistico moderno, questa enorme quantità di statue di marmo presenti nella Roma antica e poi sopravvissute anche grazie al collezionismo privato da parte delle nobili famiglie, diciamo a partire dal Quattrocento, di cui di fatto i Tolonia sono gli ultimi, tutte queste grandi statue di marmo sono innanzitutto il segno che Roma si è trasformata in una città greca, cioè sono realizzate a partire da quell'epoca che coincide grosso modo insomma col secondo secolo avanti Cristo, in cui Roma diventa davvero padrona del Mediterraneo, soprattutto del Mediterraneo orientale, della Grecia, dei regni ellenistici e appunto il feroce vincitore che ha conquistato la Grecia in realtà è stato a sua volta conquistato da un punto di vista culturale dalla Grecia stessa ed è grazie alla conquista della Grecia che le arti hanno fatto il loro ingresso in una regione ancora agricola e rude, quale era appunto il Lazio del secondo secolo avanti Cristo. Quindi attraverso i marmi romani noi vediamo, attraverso il filtro delle statue romane, di fatto anche la cultura greca. Quindi ciascuna di queste statue, di queste opere racconta molteplici storie, la storia greca, la storia romana, la storia del collezionismo e la storia più recente. La citazione è da Orazio, è il secondo libro dell'epistole di Orazio. Partiamo dai marmi torloni appunto, collezionare capolavori è il titolo che è stato dato alla mostra organizzata alla Villa Caffarelli che è entrata a far parte, diciamo, del corpo dei musei capitolini, i più antichi musei del mondo, già come dire, sede dei bronzi famosi donati da Sisto IV alla fine del Quattrocento al popolo romano e poi ufficialmente aperti al pubblico dall'anno 1734 per volontà pontificio, ovviamente perché Roma era dei pontefici. e si sono ampliati nel tempo appunto andando, come dire, ad occupare di fatto tutti gli edifici che sono presenti sul Colle Capitolino e questa nuova sistemazione della Villa Caffarelli, devo dire, è davvero splendida, è un ingresso laterale con un bellissimo anche affaccio panoramico in una zona molto silenziosa e tranquilla del Colle Capitolino. La mostra espone solo una piccola parte di quello che era un immenso tesoro di erudizione di arte, così il Visconti, Pietro Ercole Visconti, curatore del catalogo ottocentesco, definiva il Museo Torlonia, fondato da Alessandro Torlonia nel 1875 in via della Lungara, quindi a Trastevere, dove aveva acquisito appositamente uno stabile rustico, dovevano essere le scuderie di Palazzo Corsini, proprio per adivirlo a sede museale. Cioè già suo padre Giovanni dalla fine del Settecento aveva acquisito marmi antichi, solo scusamente sculture in marmo antichi, acquisendo appunto progressivamente collezioni precedenti. Giovanni, scusate, Alessandro continua l'opera del padre Giovanni per tutto l'Ottocento, andando ad acquisire altre collezioni appunto della nobiltà romana ormai sempre più indebitata e quindi pronta, come dire, a vendere o svendere le proprie collezioni di antichità, ma mentre il padre Giovanni, che cosa se ne faceva di queste sculture acquisite? Essenzialmente le esibiva, per legittimare la nobiltà appena acquisita, le esibiva nelle proprie residenze. In Torlonia si sono fatte una serie di palazzi a Roma e di ville fuori Roma, proprio per affermare l'acquisita nobiltà con diversi titoli, marchesi, principi, eccetera. E in particolar modo a Piazza Venezia avevano il palazzo di maggior rappresentanza di famiglia spazzato via con l'ampliamento della piazza medesima. Invece il figlio Alessandro ha proprio l'idea di allestire un museo, quindi tra padre e figlio nasce, diciamo, l'idea del museo moderno in un qualche senso, mentre Giovanni è ancora un esponente della vecchia concezione del collezionismo privato, cioè per stupire gli ospiti nelle proprie residenze private di città o suburbano di campagna, Alessandro ha proprio l'idea, sempre diciamo in qualche modo, di portare gloria e fama al nome di famiglia, però attraverso l'allestimento di un vero e proprio museo, cioè un edificio destinato solo e esclusivamente all'esposizione dei marmi che devono in qualche modo parlare da soli. E questo museo, fondato nel 75, pensato ancora in epoca papalina, ma di fatto aperto in epoca di Roma capitale, esponeva ben 620 sculture in 77 sale, di cui sono una novantina, diciamo, sono state esposte in mostra, con un criterio, diciamo, tematico prevalentemente, suddivise le sculture per tema. E la prima sezione della mostra vuole proprio rievocare il Museo Torlonia, che si chiudeva con una incredibile galleria che contava oltre 100 ritratti. Assolutamente straordinaria questa fanciulla, probabilmente da Vulci, è un ritratto, diciamo, difficile anche da collocare, di età tardorepubblicana, sembrerebbe, ma davvero una creazione del tutto originale, insomma, dell'epoca tardorepubblicana romana. Peraltro privo, in realtà, di contesto di rinvenimento, quindi ci parla semplicemente attraverso la sua bellezza. Così come all'epoca repubblicana rimandano questi due ritratti, questi due personaggi, con questa fisionomia iperrealistica, tipica, diciamo, della scultura ellenistica e poi repubblicana romana, la cui identificazione è cambiata nel tempo e adesso capiremo meglio perché. Forse un sovrano ellenistico, il personaggio a sinistra, però un tempo identificato, in realtà, con la figura di un villano, di un contadino, perché ha il volto molto segnato, e è chiamato invece il Patrizio Torlonia, il personaggio di destra. Il ritratto è montato su un busto di marmo moderno, creato ad hoc, e che sembra, per personificare questo personaggio di destra, davvero tutte le virtù tipiche, insomma, del civis romanus. Dopodiché comincia la galleria dei ritratti imperiali, non solo di età imperiale, ma proprio di membri della famiglia imperiale, imperatori o le loro spose. Fin dalla metà del Quattrocento circa, le nobili famiglie romane hanno cominciato a collezionare, man mano che li ritrovavano fortuitamente, ritratti degli imperatori romani, in qualche modo per legittimare la propria nobiltà e per creare, come dire, una continuità genealogica che dall'antica Roma, dalle famiglie imperiale antiche Roma, arrivasse fino alla Roma, a loro contemporanea, dalla metà appunto del Quattrocento. Anche sulla scorta del grande successo delle vite, delle biografie dei dodici cesari di Svettonio, quindi c'è il riferimento letterario. Ora, era imprescindibile in una collezione, diciamo, privata, nobiliare, la galleria dei ritratti degli imperatori, ma altro che dodici cesari, partiti dai dodici cesari, cioè da Cesare sostanzialmente fino ai Flavi, si arriva poi invece a voler avere la galleria completa, arrivando in realtà quasi sempre a falsificare le opere, cioè si trovavano ritratti che per lo più probabilmente erano di personaggi privati dell'antica Roma, che vengono restaurati, integrati, trasformati, in modo da completare sostanzialmente la serie. Nel museo, il museo Torlonia si concludeva con questa galleria dei ritratti imperiali, quindi si capisce che il Torlonia ha pensato un museo aperto al pubblico, che però sia comunque profondamente legato alla famiglia, che debba, come dire, rendere immortale il nome della famiglia Torlonia. Certo, l'allestimento è potente della mostra, così come deve essere potente l'allestimento del museo Torlonia via della Lungara. Sì, le ho scritte tutte, le d'Ascalier, ma non pretendo adesso di farvi una lezione sul riconoscimento dei singoli imperatori romani, è però piuttosto evidente che in molti casi si tratta innanzitutto di busti e teste non pertinenti fra di loro. Spesso il busto è moderno, anche quando il busto è antico, in genere non è pertinente alla testa, però si trattava di rendere, come dire, omogenea la galleria. Nel caso, ad esempio, del ritratto cosiddetto di Livio, messo tra virgolette tutte le identificazioni tradizionali, ma assolutamente errate, si tratta, ad altra, di un volto ideale, di una divinità, probabilmente giunone, trasformato nel ritratto di Livio, con l'aggiunta del diadema e del velo. Molto bello, invece, il ritratto di Caracalla, che è integralmente originale. Tra l'altro sono stati anche, diciamo, pesantemente, diciamo così, scialbati questi marmi Torlonia, proprio nell'occasione, diciamo, dell'assistimento nel Museo Torlonia, in parte anche per nascondere la natura diversa dei marmi. Se ha la testa antica e il busto è moderno, spesso si tratta di marmi differenti, e quindi la sbiancatura, in qualche modo, rende omogeneo. Qui vi indico il volto di Caracalla, molto bello. Ecco, questo si tratta di un caso proprio di contraffazione evidente, cioè il ritratto di Matidia, che vedete a sinistra, in primo piano, suocera dell'imperatore Adriano, è un ritratto moderno, è stato fatto nell'Ottocento per integrare, diciamo, la galleria, copiando un assento di ritratto di Matidia, noti appartenenti ad altre collezioni, mentre integralmente antico, busto e testa è quello di Adriano, del genere Adriano. Sono stati rimessi vicini, ad esempio, nella galleria dei Torlonia, l'imperatore Caracalla e la sua prima moglie, Plautilla, da cui peraltro Caracalla non solo ha divorziato, ma di cui si è anche proprio fisicamente liberato, facendola ammazzare dopo averla mandata in esilio. Per cui probabilmente Plautilla non gradisce di essere stata ricollocata accanto, diciamo così, al suo esecutore. Bellissimo questo ritratto di donna privata, certamente, perché non ci sono segni, indizi, diciamo, imperiali, ma anche al diadema, di età comunque tardo-antica, per il quale è stato realizzato ad hoc un busto, con un abito, diciamo, tardo-romano-bizzantino, in modo da avere nella galleria anche il ritratto di Elena, l'imperatrice Elena, cioè la madre di Costantino, per intenderci. A volte si tratta di pezzi statuari di ottima qualità, di là del fatto che vengono dati magari dei nomi, delle identificazioni di comodo. Nella seconda sezione, andando in un certo senso a ritroso nel tempo, sono esposte alcune sculture che sono emerse da scavi fatti fare dai Torlogna, perché se è vero che il Museo Torlogna è stato essenzialmente un museo composto da collezioni di statuaria che si sono formate tra i secoli, diciamo, quindicesimo e diciottesimo. È anche vero che però nel corso dell'Ottocento di Torlogna non solo hanno acquisito collezioni già formate di statuaria, ma hanno anche operato scavi archeologici. Loro che sono stati grandi bonificatori e speculatori e proprietari fondiari di fondi enormi erano sostanzialmente i padroni praticamente di tutto l'agro romano, da Porto appunto fino al Fucino, fino all'Abruzzo, compreso tutto un enorme pezzo di via Appia, tutta una parte compresa tra la via Appia e la via Latina, che è comprendente per intenderci la tomba di Cecilia Metella, la villa dei Quintili, il circo di Massenzio, la villa della Caffarella, insomma, un'area enorme che veniva chiamata Roma Vecchia per la quantità di ruderi diciamo che c'erano, erano tutte proprietà private dei Torlogna che fanno fare scavi nelle loro proprietà private, d'accordo? Cosa che tra l'altro era già discutibile anche in epoca papalina. Quindi in particolar modo dalle tenute di Porto, Fiumicino, che è l'antico porto di Roma, e la cosiddetta Roma Vecchia, cioè la Piantica, provengono una serie di pezzi statuari eccezionali, purtroppo il metodo di scavo dei Torlogna non era comunque quello scientifico e stratigrafico, ma nessuno nell'Ottocento scavava con metodo scientifico e stratigrafico. Da solo questo rilievo meriterebbe una conferenza perché è una cosa divertentissima. I Torlogna hanno trovato l'antico porto di Roma, il Portus di Traiano, il Portus di Claudio, i due bacini portuali di età imperiale che sono stati la bocca, diciamo, di Roma per tanti secoli, a qualche chilometro a nord della foce naturale del Tevere dove c'è Ostia Antica. E ancora oggi il Porto di Traiano è proprietà privata dei cesarini sforzi eredi dei Torlogna. Si vede molto bene quando si decolla con l'aereo da Fiumicino tutta questa zona archeologica di grandissimo fascino. E da questo porto di Roma, da località Portus, viene appunto questo rilievo che è un rilievo votivo e qualcuno che probabilmente è riuscito ad attraccare Stano e Salvo nel porto che ringrazia Liber Pater che è rappresentato in alto a destra per essere attraccato e c'è una cozzaglia di elementi che ci permette in qualche modo di però immaginare come si doveva presentare agli occhi insomma dei mercanti questo bacino portuale, duplice bacino portuale. Qui noi vediamo due navi onerarie che stanno entrando nel porto. La nave di destra ha già ammainato le vele perché in porto si entra evidentemente in una vele spiegate ma le grandi nave onerarie venivano trainate da imbarcazioni più piccole esattamente come succede oggi, d'accordo? La nave invece di sinistra ha ancora la vele alzata quindi vuol dire che è ancora fuori dal bacino più interno. Sullo sfondo si vede una torre tipo torta nuziale con la fiamma accesa è il faro di Portus che era il più importante faro dell'antichità il più importante porto dell'antichità la bocca di Roma tenete conto che da lì passavano le derrate alimentari che dovevano sfamare più di un milione di abitanti di Roma che non producevano assolutamente nulla ok? E poi tutti i marmi le bestie del circo eccetera eccetera e oltre al faro acceso che era stato fatto copiando il faro di Alessandria ad Egitto vediamo altri monumenti che caratterizzavano il porto la statua di Nettuno le statue degli dèi in cima ai piloni un grande arco di trionfo con quadriga dell'imperatore Traiano trainata da elefanti e alcuni dettagli ad esempio le vele sono decorate con l'immagine della lupa che allatta i gemelli due immagini della lupa che allattano i gemelli forse qui si vede un po' meglio c'è anche tra l'altro l'iniziale votum libens solvit probabilmente poi ci sono questi piccoli personaggini tutti indaffarati a fare le operazioni insomma che si devono fare quando arriva una nave da carico in porto e ho fotografato lo spessore del rilievo perché si vede molto bene anche la decorazione scultoria della polena della nave questo gruppo con afrodite e con venere e amore questo è un pezzo che più che in una collezione privata dovrebbe davvero stare in un museo pubblico perché è ricchissimo di informazioni storiche qui c'è un occhio apotropaico mi piaceva dirlo l'ho detto adesso apotropaico e qui ci sono tutti i personaggini arrampicati sulle sartie per tirar su le vele non sono di Genova io quindi scusate non conosco il vocabolario dei marinai questo è un pezzo straordinario perché è un originale greco che quindi almeno ha avuto almeno tre fasi di vita ad Atene dove immaginiamo che fosse un rilievo votivo in onore dell'eroe Polito figlio di Teseo ubicato alle pendici dell'acropoli portato a Roma probabilmente da Erode Attico che è Atenese anche se di epoca romana che nel secondo secolo dopo Cristo per intenderci era il maestro di retorica di un certo Marco Aurelio aveva una incredibile e bellissima tenuta e villa lungo la via Appia dove non c'erano solo monumenti funerari ma c'erano anche ville private e probabilmente dai resti della villa di Erode Attico appunto l'hanno tirata fuori i Torlogna però naturalmente lungo la via Appia e la via Latina ci sono anche monumenti funebri quindi un monumentale importantissimo sarcofago di un centurione c'è la scritta naturalmente che ce lo dice non finito il volto femminile non finito è un sarcofago tardo antico e forse più più divertente sempre diciamo dalla via Appia cioè dalla tenuta di Roma Vecchia dei Torlogna il sarcofago con le fatiche di Ercole un soggetto frequente sui sarcofagi di secondo terzo secolo dopo Cristo romani che diventano davvero come dell'illustrazione le dodici fatiche dell'eroe quindi con una funzione didattica come dire pronunciata lavorato anche sui fianchi quindi doveva essere originariamente collocato dentro una cappella funebre contro il muro di fondo ma libero lateralmente sono bellissime le teste di Ercole collocate come acroteri alle estremità del coperchio del sarcofago vedete il volto di Ercole erano tutti pezzi colorati in antico vedete il rosso il giallo diciamo e la testa del leone di Nemea la spoglia della testa del leone di Nemea sopra la testa di Ercole a modi elmo insomma e quindi se volete ripassiamo anche le fatiche il leone di Nemea la prima che conoscono tutti che Ercole strozza mani nude essendo invulnerabile motivo per cui poi si fa l'armatura corazza con la pelle del leone perché invulnerabile l'idra di Lerna poi già uno comincia a avere problemi il cenghiare del Rimanto sono tutte località del Peloponneso Nemea Lerne Rimanto sono nomi geografici la cerva di Cerinea di cui lui deve prendere le corna senza assolutamente ammazzarla perché è sacra ad Artemide gli uccelli del lago Stinfalo che lui colpisce con le frecce penso ci voglia una certa abilità a colpire degli uccelli in volo con le frecce poi però non si segue l'ordine perché improvvisamente compare l'amazone volita di cui Irakle deve recuperare il cinto la cintura e l'albero con le mele d'oro delle speridi e il serpente dracon abiticchiato attorno all'albero medesimo a protezione delle mele d'oro quindi hanno fatto una sintesi in realtà forse già in antico ogni tanto si scordavano quali erano esattamente le 12 fatiche quindi dalla prima la prima e l'ultima si ricordano quelle di mezzo si saltano da varie località tenute private dei Torlonia provengono questi tre atleti che poi nel museo sono stati collocati vicini non solo in mostra ma nel museo originario proprio perché la disposizione era tematica in questo caso si tratta in tutti e tre casi di repliche creazioni romane a partire da modelli greci qui si aprirebbe tutto il discorso della copistica se si tratta solo ed esclusivamente di mera coppia o di variante o di diciamo nuova creazione romana certamente comunque le sculture avevano una funzione molto diversa nel mondo greco e nel mondo romano cioè nell'Atene del V secolo avanti Cristo e nella Roma di Augusto hanno una funzione spesso diversa le statue e quindi in ogni caso la statua romana non può essere solo liquidata come una scopiazzatura dell'originale greco certo a noi serve anche per ricostruire la storia dell'arte greca perché che noi conosciamo solo sclusivamente attraverso le coppie romane poiché gli originali greci salvo rarissimi casi non sono conservati però sono descritti dagli autori Plinio soprattutto ci racconta dei capolavori greci e quindi ad esempio riconosciamo nell'atleta più a destra una copia variante del diadumeno di Policreto l'atleta che si cinge la fronte con la venda quindi un'atleta vincitore queste posso dirlo sono bruttine ma proprio bruttine molto più bella invece trovata probabilmente nella tenuta di Roma Vecchia nei resti archeologici di quella che era stata anticamente la villa dei Quintili questo è il gruppo di Irene e Plutus cioè la ricchezza questo bambino che tiene in mano la cornucopia il corno dell'abbondanza è figlia della pace è un modello statuario creato in bronzo da Cepisodotto padre di Prassitele ad Atene nel IV secolo avanti Cristo e poi ripetuto e variato in questo caso tra l'altro diciamo i restauratori che lavoravano per il Torlonia per l'Alessandro Torlonia hanno correttamente integrato la statua leggendo giusto diciamo il soggetto perché siamo ormai negli anni settanta dell'ottocento quando viene allestito il museo Torlonia e la scuola archeologica filologica tedesca ha fatto passi da gigante diciamo nell'identificazione dei soggetti antichi nella ricostruzione della storia dell'arte antica però non siamo certi che venga dalla villa dei Quintili perché in realtà da questo punto di vista le indicazioni Torlonia lasciano molto a desiderare e sempre diciamo dalla via Appia dalla tenuta di Roma Vecchia questo bel gruppo probabilmente un gruppo già in epoca greca ellenistica secondo secolo avanti Cristo e poi mantenuto come gruppo anche nelle repliche di epoca romana un satiro che suona i crotali questi strumenti musicali con le mani e le nattere e anche uno strumento a percussione con il piede che invita diciamo a danzare una ninfa che si sta tracciando il sandalo come si vede forse meglio dall'immagine da dietro seduta su una roccia naturalmente però a parte gli esemplari da scavo in realtà i Torloni hanno soprattutto vi dicevo acquisito in maniera diciamo più o meno onesta ma questo non mi state registrando però collezioni già formate ad esempio la collezione che Bartolomeo Cavacetti uno scultore restauratore del Settecento aveva costituito nella sua studio di scultura in via del Babuino Cavacetti è un personaggio fondamentale della Roma del Settecento non è un intellettuale è un artigiano però studioso che lavorava al servizio dei collezionisti del Settecento per integrare le statue mutile e lui stesso aveva costituito una propria collezione che poi aveva lasciato all'Accademia di San Luca ma Giovanni Torlonia interviene e acquista il lascito Cavacetti nel 1800 decora il palazzo di Piazza Venezia e poi dopo le statue confluiscono nel museo Torlonia mentre la Villa Albani del cardinale Alessandro Albani più importante collezionista della Roma del Settecento per cui lavorava anche il Cavacetti di Inkelman il Mengs senza l'Albani non ci sarebbe stato il neoclassicismo per intenderci fatto sa che l'intera villa viene acquisita dai Torlonia la Villa Albani sta sulla via salaria era già stata molto impoverita e qui vediamo un'immagine settecentesca di Villa Albani come nel Settecento il collezionista utilizza le sculture antiche proprio per arredare e dare una intonazione all'antica alla propria residenza suburbana facendo di fatto quello che facevano già gli antichi romani che avevano le loro ville suburbane nelle parti alte di Roma oggi è tutto Roma però una volta Roma era piccolina come dire fuori dal centro sul Quirinale sull'Escuidino sul Ceglio sul Pincio c'erano solo diciamo grandi spazi verdi e queste ville si trovavano completamente immerse diciamo nel verde e già gli antichi romani arredavano le loro ville con sculture fatte in epoca romana copiando le sculture greche i collezionisti del Settecento ripropongono diciamo questi questi allestimenti utilizzando le sculture che continuavano a venire fuori a Roma ogni volta che si faceva un buco sostanzialmente il cardinale Alessandro Albani è stato proprio il fondatore diciamo del neoclassicismo la villa è stata allestita da Winkelmann e da Mengs per intenderci i vasi antichi vengono usati come bocche di fontana e via dicendo oggi questa è tutta zona urbanizzatissima di Roma e dalla collezione Albani sono passate al museo Torlogna è passata al museo Torlogna ad esempio questa stupenda tazza diciamo così bacino di fontana con le fatiche di Ercole nuovamente il marmo pentelico quindi è marmo che viene da Atene quindi è una stupenda opera neoattica di fine primo secolo avanti Cristo dell'età di Giulio Cesare diciamo creata probabilmente per un intellettuale importante collezionista di epoca romana poi riutilizzata dall'Albani che l'ha fatta integrare con il piede per poterla utilizzare come fontana nel suo giardino e qui troviamo nuovamente la sequenza l'Ercole però a basso rilievo con l'Era con Leone di Nemea molto bello l'Era che libera Teseo dagli inferi lo riporta in superficie c'è il cane Cerbero a tre teste un rilievo molto fine non era facile fotografarlo scusate perché il risvolto del vaso mi faceva ombra e poi potete immaginare se potessero stare mezzo secondo in ogni sala perché col covid l'ho visto mese scorso questa mostra nei pochi giorni in cui è stata aperta l'idra di Lerna il cenghiale di rimanto che Ercole porta in spalla la cerva cerinea a cui viene staccato il corno come prova della compiuta impresa fatica Ercole con l'arco si vede male che colpisce gli uccelli del lago rostinfalo nel Peloponneso molto bene si vedono le cavalle antropofage del terribile sovrano traccio Diomede Ercole fa mangiare come prima cosa le cavalle loro stesso padrone Diomede e poi le doma mangiano carne umana queste cavalle e poi affronta un centauro ma spesso Ercole si trova ad azzuffarsi con questi esseri ubriachi ferini e selvaggi che sono i centauri e un altro vaso antico utilizzato come fontana nel giardino di Villa Albania è questo bellissimo cratere anche questa è una creazione neoattica cioè nella Roma tra Giulio Cesare e Augusto si recupera lo stile classico dell'Atene diciamo così di Pericle e si dà vita a una produzione che viene chiamata dagli storici dell'arte neoattica perché non è una produzione attica atenese originale di quinto secolo avanti Cristo è una produzione fatta apposta da scultori greci per i romani del primo secolo avanti primo secolo dopo in genere sono gli artigiani sono greci e la chiamiamo appunto produzione neoattica però a prima vista il baso il supporto la base non è pertinente d'accordo è antica ma non è pertinente vedete che a prima vista sembra veramente di essere di fronte a un rilievo greco sembra di vedere in miniatura i rilievi di figlia per il partenone insomma per intenderci questa è una danza di menadi di baccanti quindi vedete quante storie ci racconta uno stesso oggetto l'arte classica dell'Atene del quinto avanti fine quinto il gusto degli intellettuali romani dei colti romani di primo avanti primo dopo che collocavano questi crateri di marmo come fontane nei loro giardini il gusto dei collezionisti del Settecento che è molto simile a quello dei romani e poi l'idea del Torlogna di creare il museo in epoca greca non si facevano i vasi di marmo il cratere era il vaso per il vino era di terracotta naturalmente in epoca romana che comincia l'uso dei vasi di marmo come bocche di fontana per arredare i giardini appunto l'unica differenza tra i romani diciamo i collezionisti del Settecento è che per i romani queste sono davvero divinità sono presenti gli dei pagani nei giardini degli antichi romani invece per il cardinale Albani del Settecento per quanto amante della classicità evidentemente cristiano cattolico no sono solo un'esibizione di erudizione di gusto all'antica un bel nilo un po' restaurato in grigio morato una scultura di epoca romana di fine primo secolo dopo il gusto anche per i marmi soprattutto se il soggetto egizio marmi provenienti dall'egizio quindi non marmi bianchi ma marmi colorati notate il coccodrillo simpaticissimo che sbuca fuori dietro il piede del nilo eccolo qua per cui ho fotografato anche col pollicione in primo piano perché volevo fotografare il coccodrillo è chiaro che ci sono state integrazioni da Villa Albani proviene anche un pezzo scultorio di primo secolo dopo Cristo con un soggetto raro che è Ulisse attaccato sotto il montone deve uscire dall'antro del ciclope polisemo perché l'ha cercato non l'ha ammazzato e quindi deve trovare il modo per uscire senza che quello a tastoni lo becchi e la vicenda insomma è nota guardate proprio lo sforzo di Ulisse per tenersi attaccato sotto il ventre del montone questo è uno di quei pezzi che un collezionista del Settecento ovviamente facevano impazzire perché è un soggetto abbastanza raro però famosissimo dal punto di vista letterario e deve essere piaciuto parecchio anche al Torlonia che l'ha messo nella sezione dedicata agli animali nel suo museo quindi contava più il montone di Ulisse diciamo così ecco l'Ulisse attaccato sotto questo invece è un pasticcio proprio un pasticcio i restauratori che hanno lavorato per il Torlonia fino ad 800 per l'allestimento del museo hanno messo su una stessa base due guerrieri cambiandoli e integrandoli infatti il risultato devo dire la verità è alquanto bruttino anche se possono così piacere evocare il mondo della gladiatura mentre in Tonse e quindi bellissima anzi bellissimo è questo altare quest'ara con rilievo ritorniamo al gusto neoattico di primo fine primo secolo avanti Cristo dell'età di Augusto insomma che piace tanto anche ai collezionisti del Settecento questo era un pezzo del Cavaceppi eccolo qua Bartolomeo Cavaceppi questo importantissimo scultore restauratore faceva entrambe le cose appunto che ha lavorato soprattutto a restaurare i marmi del cardinale Albani e questo è un altro pezzo della collezione Cavaceppi acquisita dai intercettata meglio dai Torlonia più che acquisita un sarcofago con soggetto Dionisia con la cassa mentre su coperchio c'è la figura della defunta giacente io andando indietro nel tempo entra a far parte delle proprietà Torlonia anche una collezione secentesca la collezione di Vincenzo Giustiniani personaggio che tutti voi conoscete quando si fanno i percorsi dedicati a Caravaggio a Roma lui è uno dei grandi protettori ammiratori è stato uno dei primi a collezionare opere di Caravaggio per intendersi per intenderci un personaggio di origine genovese banchiere il suo palazzo il palazzo di Sant'Eustacchio è l'attuale sede della presidenza del senato a Roma in questo palazzo aveva la sua galleria diciamo di statuaria antica Vincenzo Giustiniani un personaggio un colosso della Roma del 600 aveva 1894 sculture recensite nel catalogo che veniva sempre estilato nel XVII secolo 267 sono quelle acquisite da Giovanni Torlonia nel 1816 questo lo capite da soli è un restauro integrativo cioè si parte da un pezzettino antico un torso eccetera per creare un soggetto che piace al collezionista in questo caso al Giustiniani e quindi si crea un Apollo a sinistra con le sfoglie di Marsia il satiro sconfitto nel concorso musicale scuoiato e quindi da un torso antico si crea un Marsia appunto attaccato all'albero per essere scuoiato vivo e sono proprio creazioni che assecondano il gusto erudito diciamo del collezionista integrazione invenzioni diciamo e questa è la sala della mostra che espone lo statuario Giustiniani di grande impatto devo dire immancabile la galleria dei ritratti imperiali appunto già nel seicento in primo piano non bellissimo Augusto ma in realtà si parte da Giulio Cesare siccome in realtà i ritratti di Giulio Cesare sostanzialmente non ci sono non esistono questo è probabilmente un ritratto privato su busto antico identificabile diciamo con Giulio Cesare perché è coerente come datazione molto bello invece il ritratto di Augusto di primo secolo mamma mia che brutto viteglio a sinistra falso perché un imperatore che è stato imperatore due mesi non hanno manco fatto in tempo a fare il ritratto ufficiale Galbotone Viteglio dopo l'uccisione di Nerone poi diventa imperatore Vespasiano questi sono i cosiddetti imperatori rari nella collezione dei cosiddetti dodici Cesare di Svetonio perché sono stati imperatori troppo poco sono finiti subito ammazzati per avere i ritratti quindi si crea e lo si piazza beh giustamente prima insomma di Traiano che invece è un bel ritratto antico la testa il busto è moderno quando dico moderno intendo del 600 chiaramente fatto fare dal Giustiniani bellissimo il volto di Severo Alessandro imperatore di terzo secolo figlio di una donna siriana ultimo discendente di Settinio Severo rarissimo anzi introvabile anzi io non l'ho mai trovato il ritratto dell'ultimo imperatore romano Romulo Augustolo deposto nell'anno 476 per cui anche in questo caso si prende tutt'altro e gli si mette l'etichetta Romulo Augusto ma in realtà un ritratto di secondo secolo al Giustiniani piacevano poi i giochi i rimandi le finmetrie due sculture che originariamente in epoca romana rappresentavano Iside idea protettrice della navigazione restaurate però come cerere le hanno messo in mano le studie di grano dove già l'antico romano di età probabilmente severa ama il contrasto tra i due marmi il marmo egizio diciamo così per la veste della dea egizia riconoscibile dal nodo e la testa i piedi le mani di marmo invece chiaro poi appunto integrato dai restauratori del Giustiniani ancora le simmetrie due afroditi accovacciate entrambe copie di epoca romana di un originale ellenistico famosissimo famosissimo perché è pieno di copie quindi vuol dire che era famosissimo perché continuavano a replicarlo in epoca romana realizzato probabilmente da Doi Daltas così dice Plinio per il sovrano di Bitinia Nicomede è un regno ellenistico la Bitinia nella Turchia in questo caso però solo uno dei due esemplari è stato trovato nella Roma del Seicento integro l'esemplare di destra era Cefalo per cui un certo Pietro Bernini che lavora per il Giustiniani realizza la testa Pietro Bernini è il papà di Gian Lorenzo quindi è tutta d'autore insomma questa Venere questa è quella integralmente antica e altra scultura greca famosissima doveva essere il satiro cosiddetto in riposo di Prastitele del IV secolo avanti Cristo un satiro con pelle ferina che si riposa che è proprio Plinio citta come famoso per i Boethos identificato il soggetto antico da Winkelmann c'è l'importanza di queste collezioni feste tecentesche e che su queste collezioni ha avuto inizio lo studio della storia dell'arte antica in tempo per archeologia si inteneva solo storia dell'arte Winkelmann legge Plinio vede queste sculture e identifica in queste sculture l'opera di Prastitele per cui in tutti i manuali di storia dell'arte oggi se voi volete studiare Prastitele visto che non abbiamo manco un originale di Prastitele trovate le fotografie una volta i disegni di queste opere grazie alla scuola filologica tedesca a cui Winkelmann ha dato inizio filologica perché leggevano le fonti scritte e mettevano in collegamento sono bellissime le copie dell'estate del riposo sono tutte bellissime quelle di epoca romana dall'originale greco i romani probabilmente anche essi se le collezionavano nelle loro ville decoravano i loro giardini con queste copie perché questo ci tengo a dirlo anche in epoca imperiale romana gli originali greci erano obbligatoriamente proprietà pubblica molte opere originali greche probabilmente anche il satrio di Prastitele sono state portate a Roma come il bottino di guerra Grecia capta ferrum victor en cepit ma per essere collocate sempre in luoghi pubblici visibili a tutti per cui anche l'imperatore stesso se voleva arredare il proprio palazzo lo proprio giardino doveva ricorrere una coppia che non era considerata minore diciamo dell'originale ma anzi era nobilitata dal fatto che si rifaceva un esemplare appunto greco e quindi c'erano tutti questi copisti insomma al servizio e Giustiniani mette nel suo palazzo anche questa bella coppia di sposi le statue sono state trovate senza testa e quindi hanno messo sopra altre due teste creavano questi pasticci corpi e teste di altri una afrodite e una artemide e fesina e questo era il pezzo forte della collezione Giustiniani questo meraviglioso caprone che doveva rappresentare diciamo nell'interpretazione cristianizzata dell'epoca il simbolo delle passioni terrene d'accordo trovato anch'esso in realtà senza testa la testa è stata creata da un giovanissimo Gian Lorenzo Berdini che lavora insieme a suo padre al servizio anche di Vincenzo Giustiniani e quindi due capolavori d'arte in uno questo è un rilievo divertente era il rilievo funebre di una donna che in vita aveva una macelleria e quindi su un monumento funebre esibisce tutta la mercanzia insomma le carni della bottega trovata a Piazza del Popolo finita a Villa Albani nel 600 e poi ancora più indietro nel tempo i Torlonia sono riusciti ad acquisire anche nuclei di collezioni addirittura nate nel 15-16 secolo cioè quando nasce l'interesse per l'antichità prima del 15 secolo non esistono collezioni di antichità è il rinascimento è l'umanesimo bellissimo questo enorme vaso in marmo con scene dionisiache con la vite l'uva e con un ermafrodito addormentato infatti i satiri vanno a svelare proprio là dove si rivela la doppia natura dell'ermafrodito notate che questo pezzo famosissimo perché molte volte è disegnato nel 400 si trovava in una chiesa di Trastevere utilizzato che funziona non so bene poi è stato allestito dal cardinal Federico Cesi nel suo giardino del palazzo di Borgo spazzato via dall'apertura di via della conciliazione quindi è entrato in proprietà albani e poi è passato ai Torlonia allora questi sono pezzi famosissimi nel senso che proprio la storia dell'arte dal 400 in poi si è fatta studiando questi pezzi la scuola dell'antico cito Mantegna ma non lo cito a caso Raffaello imparavano disegnando i pezzi che vedevano nelle collezioni e non solo imparavano ma poi chiaramente estrapolavano i singoli come dire soggetti iconografici quindi le collezioni che sono formate già nel 400 sono importantissime anche per lo sviluppo della storia dell'arte dal rinascimento in poi come ad esempio questo sarcofago con le fatiche di Eracle che è stato proprio utilizzato come modello diciamo per rappresentare le fatiche dell'eroe dagli artisti dal 500 in poi purtroppo hanno piazzato una testa di dama di età Flavia sul corpo di una defunta di epoca successiva magari un esperto non lo nota subito ma questa è un'acconciatura di primo secolo su un corpo che è chiaramente di secondo secolo insomma poco pertinente e poi gratuitamente perché c'era la testa originale quindi è stata scapicozzata e sostituita questo è un sarcofago veramente imponente come se fosse un grande letto tricliniare con i due coniugi la tradizione etrusca dei coniugi degli sposi seppelliti insieme e l'eroe Ercole è molto utilizzato sui sarcofagi perché Ercole Eracle in Grecia è il mortale che riesce a diventare immortale grazie alle sue fatiche quindi lui destinato a morire viene accolto tra gli dèi al termine delle sue fatiche ecco perché diventa anche un soggetto funerario quindi leone di Nemea l'idra di Lerna il cinghiale ormai abbiamo imparato a riconoscerli la cerva oddio questo a me piace meno della tazza di prima gli uccelli guardate che c'è il corvo appollaiato qua sul pilastro angolare del sarcofago e Ercole che lo sta colpendo con la freccia a distanza ravvicinatissima questo è bellissimo un sarcofago a vasca da bagno cioè allenos per dirla alla greca strigilato con questo disegno a esse e lateralmente queste due scene diciamo così di caccia questi leoni che zannano questi poveri erbivori boh nantilo quena peco non lo so già proprietà dei savelli che nobili romani che si erano fatti il loro palazzo dentro ai ruderi del teatro di Marcello poi passato in proprietà Orsini poi passato insomma veramente c'è anche la storia della Roma rinascimentale è un bellissimo sarcofago di terzo secolo dopo Cristo l'ho fotografato anche profilo destro profilo sinistro sono leoni addomesticati vedete che hanno anche la cintura come insomma il guinzaglio di Ademato lavorati col trapano questi pezzi scultori di terzo secolo dopo Cristo si utilizza uno strumento diciamo nell'arte scultore romana che permette di creare questi solchi profondi e questi effetti di chiaroscuro che vengono definiti barocchi anche se siamo nel terzo secolo dopo Cristo è il barocco antico di nuovo un nilo che era del cardinal Cesarini notate tutti i cardinali in genere tutti i prelati a parte il giustiniani che poi si mettono in giardino uomini e donne cioè dei antichi tutti nudi e il cardinal Cesarini aveva anche fatto scrivere all'ingresso del suo giardino il suo palazzo che si trovava in Larga Argentina il cardinal Giuliano dedicò questo giardino con le sue statue alle proprie occupazioni predilette e all'onesto piacere e alle sue concittadini nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno cadeva l'anno 1500 finalmente ha anche un soggetto forse un po' più consono a un cardinale l'immagine di un filosofo Crisippo stoico e anche in questo caso è una statua romana che si rifà a un prototipo greco terribile secondo me orrenda questa Atena integratissima integratissima armata super armata con elmo scudo eccetera con di fianco il suo albero l'ulivo e guardate questa civetta la civetta è simpatica però devo dire a me è piaciuta molto di secondo secolo dopo Cristo ma in realtà è più una creazione moderna che non una scultura antica e come diciamo appendice effettivamente di questa di questa mostra torlogna possiamo fare una carrellata di una selezione di sculture esposte a Palazzo Alpens perché allora tutte queste collezioni private di statuaria antica che si sono formate nella Roma del 5, 6, 7 e 800 diciamo che fine hanno fatta l'unità d'Italia allora l'800 è già il secolo della decadenza della nobiltà tradizionale d'accordo tranne i Torlonia tutti gli altri sono costretti a vendere sostanzialmente per di più Roma passa dallo stato della chiesa all'Italia Roma diventa capitale nel 1870 è chiaro che è nato un nuovo mondo che fine fanno? a parte il caso Torlonia vengono per lo più acquisite dalla pubblica amministrazione italiana o lo Stato e si forma il Museo Nazionale Romano Palazzo Alpens è una delle sedi del Museo Nazionale Romano o dal Comune di Roma che già che diciamo che diventa proprietario del più antico Museo del Mondo dei Musei Capitolini d'accordo? Negli ultimi anni sia lo Stato sia il Comune di Roma hanno molto lavorato presso le loro fedi a riordinare le collezioni di statuaria lo Stato il Museo Nazionale Romano ha scelto Palazzo Alpens uno stupendo Palazzo rinascimentale nel cuore di Roma come luogo per esporre quelle statue che facevano parte di collezioni nobili quindi prive di contesto di rinvenimento diciamo ma che costituivano una collezione della Roma papalina in questo caso la collezione del Cardinal Ludovico Ludovisi diventato cardinale giovanissimo era il nipote di Gregorio XV sono tutti bolognesi il Papa è stato Papa per soli due anni lui si è fatto costruire un'incredibile residenza nella parte più elevata di Roma diciamo vicino tra 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 il Pincio e Porta Collina e Porta Pia e utilizzava il Bernini e l'Algarvi come restauratori Bernini che abbiamo già incontrato l'Algarvi che è bolognese tutta la zona dove si trovava l'enorme villa Ludovisi per villa si intende giardino più casino più palazzo è stata lottizzata e edificata in occasione della del trasferimento della capitale a Roma quindi a partire dal 1870 è stato edificato ciò che era tutto verde verdissimo ed è esattamente il quartiere dove noi andiamo a dormire quando andiamo a Roma al nostro mitico hotel Medici dove il Cardinale Ludovisi si è fatto fare la sua villa seicentesca è già esattamente uno dei posti prediletti già dall'aristocrazia romana perché sono le parti alte di Roma e quindi lì aveva la sua villa un certo gaio giulio cesare che tutti conoscete vero che cesare ha lasciato in eredità un certo stallustio in quale stallustio la poi ha lasciato in eredità ad augusto e quindi è diventata una villa imperiale romana quindi Ludovisi si fa la sua villa trova le sculture che erano della villa di giulio cesare si allestisce la sua collezione insomma è un gioco di scatole cinesi veramente incredibile eccoci siamo noi a palazzo altemps qualche anno fa 2010 questo è cortile ecco tra l'altro con una collezione anche gli altemps avevano la loro collezione di statuaria antica questa è la villa Ludovisi già a Ortini insomma comunque legata al cardinal Ludovisi principalmente vedete giardini e la statuaria antica era collocata sia nelle esterni sia negli interni naturalmente a seconda soprattutto del soggetto i ritratti degli imperatori dentro ovviamente le afroditi nude fuori ecco per intenderci quello che era la villa Ludovisi una superficie enorme prevalentemente a giardino dentro le mura aureliane con una serie di paviglioni costruiti di cui sostanzialmente si è conservato solo il casino dell'Aurora con gli stupendi affreschi del Guercino e l'unico affresco di Caravaggio la notte questa è la zona di Via Veneto questa è stata la più grande scandalosa orrenda speculazione edilizia di Roma capitale che ha veramente fatto che di peggio non poteva fare il quartiere peraltro un bel quartiere cosiddetto Ludovisi Sallustiano che sono le due ville che c'erano precedentemente peraltro la società immobiliare apparteneva ai Torlonia ma non diciamolo troppo forte ecco sulla mappa di Roma attuale questo quartiere per intenderci lì si trovava la collezione Ludovisi Ludovisi in epoca antica fuori di quelle che erano le mura più antiche di Roma serviane questa è la zona alta sostanzialmente è il colle Quirinale come colle chiamato Collis Ortorum il colle degli orti i romani aristocratici chiamavano orti le loro ville con un termine diciamo preso dall'epoca antica ma non erano orti con i cavoli erano ville stupende e alla collezione Ludovisi appartiene questo che Winkelmann definiva il più bel busto di Marco Aurelio in realtà è quasi tutto finto di antico c'è solo busto in porfido una Atena con serpente che Atena a carezza che è stata restaurata come Atena perché anche Ludovisi voleva un'Atena come quella del Giustiniani perché erano poi in concorrenza tra di loro questi collezionisti Ludovisi e Giustiniani sono contemporanei sono tutte e due del 600 insomma a destra l'Atena Giustiniani che sta invece nel Museo Vaticano due coniugi però scapicozzati non integrati sul coperchio del loro sarcofago e poi i pezzi più belli questo stupendo satiro in marmo grigio fotografato da me in tutte le salse i pezzi più famosi famosi proprio perché studiati soprattutto nel corso poi del 700 da Winkelmann Winkelmann io l'ho sempre per scontato per un archeologo il padre fondatore dell'archeologia come dire Freud per la psicologia e quindi tutto quello che ha studiato Winkelmann e comunque anche se magari oggi le sue teorie le sue identificazioni sono superate e pur sempre la base e quindi Winkelmann 700 vede la collezione fatta nel secolo prima da Ludovisi e identifica in questo gruppo Reste Lettra quindi di queste sculture c'è anche una lunghissima tradizione di disegni perché sono stati disegnati e non c'erano le fotografie i due fratelli figli di Agamennone questo è il celeberrimo Ares Ludovisi tutte queste sculture vengono chiamate col cognome Ludovisi anche se il soggetto oggi magari non è più identificato come Ares il dio Marte integrato da un certo Gian Lorenzo Bernini che ha fatto stupende l'elsa della spada e la testina dell'amore a Morino che sta giocando con le armi di Marte perché il soggetto è amore sveste rende diciamo in belle rende innocuo il dio della guerra e infatti si vede che sono del Bernini la testa dell'amore e l'elsa della spada famosissimo il Galata che ha ucciso la propria moglie uccide se stesso allora qui probabilmente cos'è successo questo ve la faccio per avere un esempio allora siamo a Pergamo non Bergamo Pergamo Asia minore Turchia capitale di un regno ellenistico dove i sovrani si chiamano Attalidi Attalo e Umene Attalo e Umene nato diciamo dalla spartizione delle conquiste di Alessandro Magno ok i Galli Celti Galati perché hanno la pelle bianca in greco invadono l'Asia minore gli sovrani Attalidi combattono contro i Galati ok e poi dopo aver vinto ringraziano gli dei dedicando un donario un gruppo scultorio sull'acropoli di Pergamo nel santuario di Atena Nikeforos che dà la vittoria gruppo bronzio citato da Plinio non conservato i romani soprattutto un romano un certo Gaio Giulio Cesare che ha acquistato una certa fama vincendo i Galli i Celti a casa loro in Gallia nel Bello Ungallico Vercingetorige nella campagna del 58-51 avanti Cristo probabilmente si fa fare un gruppo scultorio copiando quello ellenistico da collocare nella propria villa privata a Roma a memoria della propria impresa il Galata suicida villa di Cesare che poi è passata a Sallustio e quindi li chiamiamo orti sallustiani il Ludovisi fa costruire la sua villa dove c'è la villa di Cesare e trova queste sculture che quindi ci raccontano tutta una serie di storie la collezione Ludovisi è stata smembrata non è stata acquisita solo dallo Stato italiano ma anche dal comune di Roma e quindi dello stesso gruppo doveva far parte anche il Galata Capitolino che è un Galata morente bisogna continuare a viaggiare a destra a sinistra per mettere insieme i pezzi perché nessuna di queste collezioni si è mantenuta diciamo intatta e qua già ci muoviamo sempre all'interno di Roma pensate a tutto quello che ho finito all'estero naturalmente questi sono dei pezzi bellissimi a me piace tanto l'idea che se li sia fatti fare proprio Giulio Cesare riprendendo diciamo il modello ellenistico la resistenza del barbaro prima di morire la fierezza diciamo del barbaro e questo è un pezzo da 90 il cosiddetto grande Ludovisi un sarcofago di terzo secolo forse destinato al figlio dell'imperatore Decio rappresentato in generale romano a cavallo in mezzo a questa incredibile zuffa tra romani e barbari di nuovo siamo al cosiddetto barocco di terzo secolo dove i romani sono tutti ben vestiti da legionari mentre i barbari sono tutti vestiti da barbari cioè con bracche pantaloni e abiti che li connotano diciamo così etnicamente questo legionario guardate la cotta di maglia come è stata resa puntualmente dall'anonimo scultore che sono tutte opere anonime bellissime anche questa pesta femminile addormentata la cosiddetta Rini Ludovisi ma non sappiamo quale fosse il soggetto rappresentato e parte di un rilievo però piaceva molto a Ludovisi sì anche questo il trono Ludovisi questo però non faceva parte della collezione del Ludovisi quando fanno quella famosa opera di speculazione edificazione del quartiere alla fine dell'Ottocento trovano altri pezzi antichi degli orti di Cesare e in compagni e quindi viene fuori questo pezzo scultorio che promette un originale greco realizzato in maglia greca probabilmente a Locri per il santuario dedicato alla dea Afrodite a Locri nel quinto secolo avanti Cristo portato a Roma dai romani vincitori questa volta come bottino di guerra della seconda guerra punica cipione l'africano nel 205 avanti Cristo ricollocato a Roma in epoca repubblicana in un tempio di Venere se a Locri era un tempio della Farodica Roma un tempio di Venere e poi rimasto diciamo seppellito e quindi è entrato a far parte delle collezioni di Ludovisi molto tempo dopo il Ludovisi Venere che nasce dall'acqua del mare sui fianchi le due rappresentazioni interpretate con amore sacro amor profano ma non è assolutamente questo sono due sacerdotesse del santuario di Afrodite a Locri e sempre dalla stessa area viene anche questo bellissimo rilievo anche questo certamente un originale greco esposto a Palazzo Alpen proprio perché portato a Roma in età repubblicana come spoglia bottino di guerra hanno saccheggiato il santuario greco e hanno arredato il tempio romano e anche questo stupendo acrolito Ludovisi questo invece l'aveva già trovato in Ludovisi ma probabilmente la testa della statua di culto della dea Afrodite venerata a Locri nel quinto secolo avanti Cristo mamma mia che storie complicate eh sì io infatti adesso che ho 50 anni comincio a capirci qualcosa al primo esame di archeologia non ci capivo assolutamente niente potete immaginare manco sapevo dove era Locri figuriamoci un acrolito Ludovisi acrolito vuol dire che la statua colossale aveva solo la testa di marmo la parte alta c'è un altro acrolito che non è però la dea Afrodite greca ma è eh una giunone romana questa stupenda testa che in realtà è il ritratto della di Antonia Minore madre dell'imperatore Claudio morta divinizzata e assimilata diciamo a giunone piaceva tantissimo a Goethe che la chiamava la mia giunone adorata mentre Schiller faceva lezioni di estetica guardando la Iuno Ludovisi aspetta volevo ehm volevo chiudere appunto col fatto che in realtà all'unità d'Italia diciamo c'è stata un po' una suddivisione dei dei materiali di Roma tra competenze statali e competenze comunali diciamo il comune preesistente evidentemente lo Stato italiano però quantomeno è tutto rimasto a Roma per non parlare di quello che è andato a finire all'estero e a dire il vero quando Roma è diventata capitale sono cominciati gli sterri per creare i nuovi quartieri umbertini per realizzare i ministeri quei palazzi enormi hanno trovato una marea di robe è stata istituita una commissione archeologica di competenza comunale perché non esisteva ancora la soprintendenza lo Stato è arrivato a creare le soprintendenze solo nel 1906 quindi la competenza comunale e quindi è venuta fuori una marea di roba che è andata ad arricchire le collezioni dei musei capitolini e che qualche anno fa è stata destinata all'altra sede comunale che è quello stupendo esempio di archeologia industriale della centrale Montemartini quindi un edificio di inizio novecento che ospita una parte delle collezioni dei musei capitolini le sculture che sono riemersi diciamo dal sottosuolo di Roma tra la fine dell'ottocento Roma capitale e il ventennio fascista cioè i due momenti dei grandi sterri sostanzialmente e sono statue che ci raccontano proprio la storia di Roma antica queste non sono passate attraverso collezionismo privato e quindi ci danno tante informazioni su dove erano collocate diciamo in origine Roma antica questa era una statua di culto di uno dei templi di Largo Argentina trovati da da Mussolini trovati anche questi pezzi enormi la testa e il braccio così come sempre in epoca fascista isolando il teatro di Marcello hanno ritrovato i resti di due templi uno dedicato al culto di Apollo hanno rialzato le colonne che tutti conoscete stanno di fianco al teatro di Marcello questo è il disegno ricostruttivo hanno ritrovato anche alcune sculture ma solo recentemente facendo ordine in quelle migliaia di sculture riemerse tra la fine ottocento e gli anni trenta si è capito che il tempio romano dell'epoca di Augusto di fianco al teatro di Marcello era decorato con statue greche originali greche in Grecia decoravano un tempio greco portato a Roma ad Augusto per un tempio romano sempre dedicato al dio Apollo e con questa immagine chiudo questo stupendo Teseo che ad Eretria nell'isola di Obea decorava il frontone di Apollo d'Androforos nel quinto secolo avanti Cristo una opera una realizzazione vicina diciamo alle sculture di Fidia per il Partenone che il coltissimo e grecofilo Augusto fa portare apposta a Roma per decorare il nuovo tempio dedicato ad Apollo divinità prediletta da Augusto vicino al teatro di Marcello ma poi crollate queste sculture sono rimaste probabilmente seppellite sottoterra già in antico forse per via di un terremoto non trovate non collezionate da collezionisti privati ritrovate un po' maldestramente negli anni 20-30 quando Mussolini faceva fare proprio sterri rimaste accatastate lì nei fornici del teatro di Marcello che servivano come deposito grazie agli studi più recenti diciamo ormai di un po' di anni fa sono state come dire ridentificate nella loro doppia vita la vita greca la vita romana e adesso la nuova terza vita alla centrale Montemartini questo è l'eroe Teseo che deve colpire un amazzone e questo diciamo è una carrellata di esempi di questo popolo di Marmo come lo ha chiamato giustamente Paolo che può essere come dire o noiosissimo se pensiamo a quell'esposizione insomma di una volta queste sfilate incinite di statue che poi non si capisce più se sono uguali sono diverse da loro o interessantissimo se si vanno come dire effettivamente a interrogare e a ridentificare e rivitalizzare ecco nelle loro varie diverse diversissime funzioni che solo l'archeologia più moderna riesce a ricostruire insomma bene siete ancora lì siete vivi dai abbiamo finito un pochino prima siamo vivi grazie mille molto interessante molto molto interessante mi piacerebbe fare un conto probabilmente qualcuno l'ha fatto se no fatelo voi fate una mano quante sculture attualmente sono presenti a Roma nelle collezioni private quante dovevano che sono solo la punta dell'iceberg delle sculture prodotte in marmo in epoca antica d'accordo perché il 90% dico una percentuale a caso ma credo di andarci abbastanza vicina il 90% è stato calcinato delle sculture di marmo in epoca medievale si faceva la calce con i marmi antichi quindi quante sculture c'erano nella Roma antica se quelle attualmente conservate sono solo una piccola percentuale numero pazzesco Valeria ma queste sono solo statue pensa se i romani facevano anche i quadri quanti quadri ci sarebbero stati no dicevo che facevano come i quadri i greci decoravano tutti i templi con i quadri e i romani facevano le copie anche dei quadri un pallidissimo riflesso di tutti questi quadri sono gli affreschi parietali di Pompei però per fortuna quelli sono persi per sempre perché supporto troppo fragile non si sono conservati almeno da quel punto di vista siamo a posto per fortuna per fortuna per fortuna ce lo siamo tolti anche perché i greci apprezzavano molto di più la pittura della scultura considerata la più nobile delle arti la pittura infatti non sono mica firmate queste opere scultore abbiamo fatto una lezione tutta di basso artigianato e più bello resta il caprone con la testa del Bernini magnifico bellissimo quello c'era a 18 anni quando ha imparato a scolpire integrando le sculture antiche Bernini la tonda era Bernini la prossima che Paolo ha pensato che abbiamo pensato insieme con l'idea poi insomma di tornare i visuliani visto che ci sono continuamente notizie di ritrovamenti poi ci danno queste notizie per distrarci dal coronavirus non so se avete evitato che effettivamente viene fuori ma un po' perché è vero che anche se c'è il coronavirus per fortuna gli archeologi lavorano ma non solo gli archeologi quindi i ritrovamenti ci sono e non tutti diciamo esattamente come li riporta la stampa però ci sono cose interessanti per fare così dovrò preparare la selezione perché dovrò procurarmi anche io le immagini che non mi sono mai fotografate che non si era al vivo